allora questa è una briocia col gelato questo è Gabriele questo sono io buongiorno e questa è la chiesa di San Giovanni Bosco in tutto il suo splendore siamo a San Giovanni Bosco come potete ben vedere e ce ne mandiamo altissimamente guardate che panorama un panorama bellissimo c'è qualcosa c'è un mare tipo civile però è bello è bello e ci stiamo mangiando un gelato alle 5 e mezza di pomeriggio a San Giovanni Bosco finiti di mangiare Andura però è buonissimo non potete capire come ci sentiamo bene in questo momento è un momento storico settimo gelato in confronto alla seconda guerra mondiale non fu niente di questo storico